Qui siamo arrivati alla fine, verso la ridiscesa e ho fatto caso che nella ridiscesa c'è praticamente in lontananza un casolare abbandonato, sono i classici casolari di campagna abbandonati, di montagna in questo caso, che si possono trovare tipicamente in questo tipo di paesaggio. Vediamo qua la città, l'agglomerato urbano e quanto possa essere la vita diversa da quella parte rispetto a questa parte. Qui appunto in lontananza si vede questo casolare abbandonato, anche scoperchiato sembrerebbe il tetto, sembrerebbe anche scocchecato, c'è chi si avventura un po' da più da vicino, si cerca di scoprire un po' l'orizzonte. Si può andare dici? Ma quanto tempo ci impiegheremo? Allora, niente, ritorneremo da queste parti tra poco.